Ogni volta che un amico ha successo, una piccola parte di me muore. L'invidia è un sentimento di astio, verso i beni, i pregi e le fortune altrui. La parola invidia deriva dal latino invidia, derivato di invidere, composto da in negativo e videre, guardare, e cioè vedere di malocchio o guardare male. La semplice etimologia di questa parola è molto profonda, infatti il sentimento dell'invidia è talmente comune da essere descritto nell'azione archetipica del guardare male, con uno sguardo bieco. Il canto tredicesimo del Purgatorio è il canto dell'invidia. Inizia con l'arrivo alla seconda terrazza, Dante dice che il monte secondamente si risega, e cioè dove per la seconda volta il monte è frastagliato. Questo canto ci ricorda che il compito della montagna del Purgatorio è quello di eseguire una specie di terapia cognitivo-comportamentale, particolarmente aggressiva ovviamente, con l'obiettivo di disabituarci dal vizio, dall'inclinazione al peccato. È in tutto e per tutto una rieducazione, una riabilitazione. Possiamo facilmente dividere il canto in tre parti. La prima, in cui abbiamo i tre esempi della virtù contraria all'invidia. La seconda, dal verso 43 al verso 72, in cui Dante descrive la penitenza e il modo in cui le anime degli invidiosi si purificano. E la terza, in cui abbiamo la conversazione con uno di questi spiriti, cioè Sapia. Dunque, Dante e Virgilio arrivano in cima alla scala, che li conduce nella seconda cornice, che assomiglia alla precedente ma è di circonferenza minore. Questa cornice non è decorata da sculture o da opere d'arte e sia il pavimento sia la parete rocciosa del monte sono del colore livido della pietra. C'è una specie di nulla, un freddo in questo paesaggio. E c'è un significato morale e psicologico in questo contrasto netto fra l'aspetto della prima e la seconda cornice del purgatorio. E cioè, la superbia è un peccato che viene ostentato, che si manifesta in una moltitudine di comportamenti, parole e azioni. Cioè è visibile, è esterno. L'invidia, invece, è segreta, nascosta, subdola, quasi inattiva. Come scrisse Onorelle Balzac, l'invidia si annida in fondo al cuore umano come una vipera nella sua tana. E per citare un altro grande della letteratura, Oscar Wilde, chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare con il successo. Di un amico. Riferendosi a Virgilio, al verso 13 Dante scrive Poi fisamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro, e la sinistra parte di sé torse. Quindi, Virgilio dice che aspettare l'indicazione di qualcuno porterebbe via troppo tempo. Poi fissa il sole, voltandosi a destra, e rivolge una specie di preghiera al sole, dicendo che la sua luce dovrà far loro da guida nel muovere i passi lungo la cornice, in quanto il sole riscalda e illumina il mondo. Ora, questa preghiera al sole ha creato un po' di confusione fra gli esperti. Che cosa simboleggia qui il sole? Che cos'è? I primi commentatori di Dante, quelli dei primi secoli, insomma, erano unanimi nell'interpretare il sole in questa scena come la grazia divina, o la giustizia di Dio, o Dio stesso, insomma. Il problema, però, è che se leggiamo bene le parole di Virgilio, dove dice Non è facile interpretare questo come un riferimento a Dio, neanche come allegoria, soprattutto per la frase «s'altra ragione in contrario non ponta», che significa sempre che non ci sia altro motivo che spinga in senso contrario, il che ci fa pensare a una divinità fallibile e soggetta a potenziali correzioni, che ovviamente Dio non è. Se il sole fosse Dio, o se fosse la grazia divina, che senso avrebbe dire che potrebbe in qualche caso non guidare gli uomini nella giusta direzione? Altri studiosi dicono che potremmo leggere questa preghiera come una preghiera al sole in quanto tale, e cioè come un pianeta del cielo, come era definito ai tempi di Dante. E in questo modo avrebbe un senso, in quanto Virgilio da pagano si rivolge a un'altra autorità pagana. Allo stesso tempo però il sole, che nel purgatorio è sempre la guida del cammino, è comunque una figura della luce divina, quindi forse entrambe queste ipotesi potrebbero coesistere, proprio per il fatto che qui a pregare verso il sole sia Virgilio. Ma andiamo avanti. Qui i due poeti sentono volare sopra di sé degli spiriti, che rivolgono degli inviti alla carità. Nella lettera di Giovanni è scritto che le tenebre dell'invidia oscurano gli occhi. Poi nel libro di Giobbe troviamo scritto che gli invidiosi, anche di giorno, sono nelle tenebre, e a mezzogiorno, per loro, è come se fosse mezzanotte. Perciò, mentre nella prima cornice la vista era molto importante, ora invece è l'udito che fa parte del rito di espiazione che devono compiere gli invidiosi, perché la loro invidia li ha resi praticamente e letteralmente ciechi. Ed è per questo che Dante sente degli inviti alla carità. Infatti l'invidia è la negazione dell'amore fraterno. E così come in vita questi erano stati incapaci di amare il prossimo, ora invitano il prossimo a partecipare alla loro carità, al loro amore. E verso noi volar furono sentiti, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amor cortese inviti. La prima voce che passò volando, vinum non abend, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse per allungarsi, un'altra i sonoreste passò gridando, e anco non s'affrisse. Oh, dissi io, padre, che voci sono queste? E come io domandai, ecco la terza dicendo, amate da cui male aveste. Questa sequenza di tre esempi di amore è straordinaria nella sua concisione, proprio costruita come il volo di un vento, con l'inseguirsi di queste parole allusive e intensissime. La prima frase, vinum non abend, non hanno vino, è presa dal Vangelo di Giovanni, della frase di Maria rivolta a Gesù alle nozze di Cana, quando aveva provato affetto verso i giovani che non avevano più vino da offrire gli invitati, e la sua carità aveva portato al miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, simbolo di sapienza. La seconda frase, io sono Oreste, si riferisce al personaggio classico di Oreste che volle vendicare la morte del padre Agamennone, ucciso dalla moglie. Una volta tornato a Micene con il suo amico Pilade, la congiura venne svelata e Oreste fu condannato a morte, però al momento del giudizio, Pilade finse di essere lui, dicendo io sono Oreste, per salvarlo. Al che Oreste rispose con la stessa frase, io sono Oreste, e tra due iniziò questa nobile gara vettata dall'amicizia, in cui ciascuno pretendeva di essere Oreste. La terza frase è presa dal Vangelo di Matteo e fa parte degli insegnamenti di amore impartiti da Cristo agli apostoli direttamente. L'amore verso gli altri deve essere assoluto e ad oltranza, anche verso chi ci odia e chi ci fa del male. Queste battute sono tutti esempi di amore, basati sull'idea che la caritas, l'amore, è proprio la virtù opposta all'invidia. Alcuni commentatori hanno criticato la scelta di Dante per l'amore, dicendo che la scelta dell'amore come virtù corrispondente al vizio dell'invidia suggerisce una certa tensione nello schema concettuale di Dante, data l'importanza fondativa dell'amore come base di ogni comportamento umano. E questi commentatori si chiedono come può essere amore la virtù specifica contrapposta al vizio dell'invidia, quando, come spiegherà di Ergilio, poi nel Purgatorio, canto 17, ogni singolo vizio è esso stesso una deformazione dell'amore. Qui cito uno di questi commentatori. Il prestito della grande categoria amore, che racchiude tutte le virtù, come virtù specifica che corrisponde a un vizio specifico, tradisce una certa instabilità nello schema che forse Dante non aveva completamente sotto il suo controllo. Ok, io mi permetto di dire che con questa posizione non sono per niente d'accordo, perché il contrario dell'invidia e il preciso antidoto per questo peccato così subdolo è proprio e solamente l'amore. Ad esempio, l'orgoglio ha il suo preciso corrispettivo nell'umiltà, la pigrizia ha il suo preciso corrispettivo nello zelo, e cioè lo zelo neutralizza la pigrizia. Allo stesso modo, l'amore, l'amore per l'altro, neutralizza l'invidia, la sconfigge. L'invidia non è altro che una forma di odio per l'altro. Se un mio amico ha successo, e io provo un amore sincero per questo amico, l'invidia non mi toccherà. Se quello che ha un grande successo non è, diciamo, un amico magari, ma soltanto conoscente, forse sarà un po' più difficile per me amarlo, ma guardarlo con amore è quello che Cristo mi chiede di fare fin dall'inizio. Anzi, potremmo addirittura dire che a Gesù non importa niente se a noi una persona è nostra amica o no, se questa persona ci piace oppure no. Molto spesso capita che qualcuno semplicemente non ci piaccia per qualsiasi motivo. Purché ci impegniamo, come cristiani, ad amare questa persona. E che cosa vuol dire questo amare? Vuol dire che mi metto forse a cantare una canzone di baglioni per questa persona mentre guardo la sua pagina su Facebook, il suo profilo Facebook? No. L'amore cristiano non è un sentimento. Non c'entra niente con l'essere innamorati, perché quella è un'emozione, è un'emozione passeggera che non dipende dalla mia volontà. Amare è semplicemente volere il bene di una persona e non il male. Questo è l'amore cristiano. È proprio la decisione che prendiamo dentro di noi di volere il bene dell'altro. Innanzitutto perché questo è quello che Dio chiede a ognuno di noi di fare. E poi anche perché l'altro, per quanto lo possiamo trovare fastidioso, è anche lui un figlio di Dio e Dio l'ha voluto proprio così com'è. Se è un po' indietro nel suo sviluppo o se il suo cuore ha preso una direzione sbagliata, non vuol dire che la sua anima non sia bella almeno tanto quanto la mia, almeno tanto quanto la nostra. E qui entriamo nella seconda parte del canto. Dante quindi apre ancora di più gli occhi, guarda di fronte e vede delle ombre, gli invidiosi, che stanno indossando dei mantelli di colore simile a quello della pietra e sono animi che stanno recitando le liternie dei santi, invocando Maria, l'arcangelo Michele, San Pietro e tutti i santi. Stanno pregando. Questi penitenti indossano un panno ruvido e pungente, proprio come un cilicio, e ognuno sorregge l'altro con la spalla, mentre tutti si appoggiano alla parete. Sono simili ai ciechi, che chiedono l'elemosina fuori alle chiese nei giorni delle solennità, che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cusce sì, come a sparvier selvaggio si fa però che queto non dimora. E cioè, anche queste anime non vedono nulla perché a ciascuno un filo di ferro cuce gli occhi, come si faceva con gli sparvieri selvaggi per autogasticarli, anche se si usava un filo di tessuto e non di ferro. Nella terza parte del canto, Dante vede un'ombra che solleva il mento con aria interrogativa, come di solito fanno i ciechi. Sentiamo che cosa dice quest'anima. aria ammenda con gli altri delle sue colpe. Con un leggero gioco di parole quest'anima dice che, anche se si chiamava Sapia, non è stata saggia nella sua vita e nella sua vita è sempre stata molto più lieta dei danni altrui che non della propria felicità. Poi spiega a Dante che i suoi concittadini stavano combattendo a Colle Valdelsa e lei pregò Dio di procurare loro la sconfitta. Quando li vide sconfitti fu talmente felice che ebbe l'ardire di rivolgersi a Dio dicendo di non temerlo più, come fece il Merlo credendo che l'inverno fosse finito. Si pentì in punto di morte e non sarebbe già nel purgatorio se Pier Pettinaio non avesse pregato per lei provando carità nei suoi confronti. Pier Pettinaio era semplicemente un personaggio di Siena conosciuto per la santità della sua vita. Si sono cercate nei documenti, diciamo, le ragioni biografiche di quest'odio di Sapia verso i concittadini senza in realtà prodare a nulla, in quanto di questo personaggio storico si sava molto molto poco. È probabile che Dante abbia voluto delineare un personaggio smesuratamente invidioso al punto di desiderare la rovina della propria città e questo per sottolineare proprio il carattere negativo, del peccato di invidia. Nel canto poi 17 del Purgatorio, Virgilio spiegherà al suo pupillo che tutto il comportamento umano, sia buono che cattivo, è radicato nell'amore. Amore che inclina al bene o amore che inclina al male, malo amor, che abbiamo visto. Sant'Agostino è il padre della Chiesa che fornisce il linguaggio del bonus amor rispetto al malus amor. Nella sua opera La città di Dio, nel capitolo 14, scrive che una volontà retta è un buon amore e una volontà sbagliata è un cattivo amore. Il bonus amor versus malus amor agosteniano conferma questa caratterizzazione dantesca dell'ingresso in Purgatorio come la porta che il mal d'amor dell'anime disusa, come abbiamo visto proprio all'inizio del canto decimo del Purgatorio. Per dirlo con altre parole, non importa quanto grande sia il mio cuore, importa come il mio cuore viene educato durante la mia vita. Perché se viene educato male o se non viene educato, rimango come ero da bambino e cioè totalmente in preda dei miei istinti. Rimango un essere, diciamo, che ha poco di umano e molto di animale. È proprio l'educazione del cuore che ci può rendere veri uomini e che ci può rendere santi. Ed è proprio l'educazione del nostro cuore o del nostro desiderio lo scopo di questo inimitabile e straordinario poema della Divina Commedia. Grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo presto. Ciao!